As-salamu alaikum Italia, mi chiamo Idi Maman, sono originario del Niger, non Nigeria, mi raccomando. Sono regista, attore e anche scrittore. E sono regista di Yaron Daji. Se io ti racconto questa storia ai bambini e poi mi chiedi chi è quello bambino e ti dicono che sono io, allora c'è un'altra fiava. Tanti bambini mi hanno fatto la domanda e io ho dovuto rispondere a loro domande e poi ho spiegato che questi bambini sono io. E tutti sono rimasti come se sei tu. Io ho detto sì, perché ho vissuto così, così, così. Allora siamo messi a pallare e veramente loro sono rimasti anche molto colpiti. Una cosa molto sorprendente ancora è di più del racconto, di più della fiava.